Don Eugenio del Bello non c'è più, per carità chiamatelo Doge, anche nelle preghiere lui avrebbe voluto così. La comunità degli archi perde il suo pastore, tipo Tosto, vero il Doge, duro come la scorza di una crocetta, ma così buono e tenero dentro come recita la poesia in vernacolo quando c'era da aiutare gli ultimi. Nato a Castelfidardo nel 37 in una famiglia di operai da ragazzo, Eugenio frequentò la parrocchia dove scoprì la sua vocazione al sacerdozio. Nel 62, il 24 giugno, fu ordinato sacerdote da Monsignor Bignamini nella chiesa di Camerano, dove poi il 29 giugno avrebbe celebrato la prima messa solenne. L'arcivescovo lo nominò viceparroco del defunto Monsignor Giorgio Terruzzi, parroco del crocifisso di Ancona. Da allora è rimasto sempre lì, nella parrocchia degli archi, dove ha svolto la sua attività pastorale e la sua impegnativa azione di promozione umana a favore soprattutto delle persone svantaggiate, i disabili in particolare. Amava fare più che apparire, eppure una volta eravamo riusciti a portarlo nei nostri studi, negli studi di ETV. Questa è una puntata di Punti di Vista del 14 ottobre 2005. Noi siamo sempre in cammino perché le nostre iniziative continuano, si parlava di inserimento lavorativo, la Libera Comunità ha fondato una cooperativa proprio per l'inserimento lavorativo, ha fondato il Centro H per conoscere, sviscerare i problemi, portare alle esperienze, a conoscenza tante cose, quindi siamo sempre in avanti, lanciati per il futuro. Parlava di futuro il Doge, un futuro che proseguirà con l'operato dei tanti suoi collaboratori, un futuro che soprattutto per loro oggi è solo triste. I funerali venerdì alle 15.30 nella Chiesa del Santissimo Crocifisso, per tutti, semplicemente la Chiesa del Doge.